Guanti, mascherine e ramazze contro l'abbandono dei rifiuti. Un gesto di volontariato ambientale. Protagonisti sono i giovani cittadini che hanno deciso di ripulire il parco urbano e le strade di campagna di San Michele Salentino. L'obiettivo è aiutare l'ambiente ma soprattutto lanciare un messaggio agli inquinatori. Spinti dalla volontà di dare un piccolo contributo, i 19 anni Sara Elia e Luca Campanelli, entrambi di San Michele Salentino, e neodiplomati all'Istituto Alberghiero Agostinelli di Ceglie Messapica da alcuni giorni raccolgono rifiuti presenti sulle strade extraurbane e nei terreni. Passeggiata tra le campagne di San Michele anche per Davide Caliandro e Luana Giacovelli, che partendo da Contrada a San Michele hanno deciso di raccogliere rifiuti di coloro che hanno scambiato la zona per una pattumiera personale. L'odevole iniziativa per l'assessora all'ambiente Tiziana Barletta e la dimostrazione ha detto che c'è sensibilità per il tema ambientale. Un esempio di cittadinanza attiva benvenga la presenza di altri cittadini che portano avanti queste pratiche di attenzione, sensibilità e cura dell'ambiente nel quale vivono.